Siamo? Ti affinchiamo? Eh, che manda! Ah, vuoi andare dopo? Eh? Andiamo per ultimi? No, dico che... Eh, Gianni è l'articolo... Ah! Come ti trovi, Carlo? Eh? Come ti trovi? Ehi, vai, andiamo! Maury! L'ho preso 3 di filo, dopo basta! Cambiamo il suo nome, no? Sì! Comunque è molto, molto bello! E questo è 2000e? Questo è 2000e! Ma non è quella con la scatola filtro in... Sì, è già rotta! No! E' carta del vino! Sì, andiamo noi, dai! Perché arrivano da qua? Ah, la rossa! La bagnante! Aspetta, senti! Questa è un'altro! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.